Ripulire il nostro PC a fine giornata con uno script automatico in Auto-Key. Benvenuti al sesto episodio della serie Live AHK, in cui creiamo uno script che risulterà abbastanza semplice, ma allo stesso tempo molto utile. Dato che la mia idea è quella di prendere una situazione reale, quella in cui a fine giornata abbiamo riempito la cartella download di file scaricati, magari dei PDF e magari allegati alle mail che riceviamo durante tutto l'arco della giornata, e soprattutto abbiamo eliminato un sacco di file che ovviamente vanno ad inquinare e a portarci via memoria nel cestino. Bene, quello che voglio fare io è andare ad automatizzare due delle seguenti azioni. 1. Andare ad eliminare tutto il contenuto della cartella download. 2. Andare a svuotare il cestino. Ovviamente voi potete aggiungere un sacco di altre cose a questo script. Magari, che ne so, eliminare tutto il contenuto del desktop tranne il cestino stesso. Potrebbe essere interessante, dato che io, perlomeno nel mio caso, non uso mai il desktop e le icone presenti sul desktop. Preferisco usare altre cartelle perché mi trovo meglio. Bene, andare ad eliminare tutto il desktop, quindi tutto ciò che è presente sul desktop, magari anche qui, PDF scaricati, file temporanei, cose che ci servivano e che abbiamo creato velocemente sul desktop, e farlo in maniera automatica potrebbe essere davvero, davvero interessante. E allora direi che qui possiamo subito entrare all'interno del vivo di questa serie, di questa nuova puntata della serie Live AKK, la serie in cui un po' in stile diretta andiamo a sviluppare script su AutoTKey. Ovviamente la playlist la trovate all'interno della descrizione e ora direi che ci possiamo mettere al lavoro. Dunque, entriamo ovviamente nella documentazione di AutoTKey e partiamo dal determinare cosa vogliamo fare. In questo caso, io ve lo ripeto, voglio svuotare il cestino e andare ad eliminare tutto il contenuto della cartella download. Per andare a farlo, direi che utilizzeremo FileDelete. FileDelete, eccolo qui, dovrebbe essere questo. FileDelete, molto bene, vediamo un attimo. Ok. Vediamo un po'. Elimina tutti i .tmp files in a directory. Ok, molto bene. Quindi vedete che lui qui sta utilizzando una particolare sintassi. Quello che sta andando a fare è, molto banalmente, utilizzare l'asterisco per indicare qualunque nome. Quindi noi, volendo eliminare tutto, andremo a utilizzare asterisco, punto, asterisco. Direi che così dovrebbe funzionare. Andiamo a copiarlo e lo riportiamo subito all'interno di Visual Studio. FileDelete, c, temp files. Facciamo che mi apro un'esplora file. Ok, faccio un secondino così, perché questo computer non è mio, quindi non vorrei andare a far vedere dati che non dovrebbero essere divulgati, insomma. Ok, direi che fin qui possiamo arrivare. Ok, pertanto vi faccio vedere come io, cliccando shift e dando tasto destro, posso copiare una specifica cartella come percorso. In questo caso la cartella download. Vado ad incollarla qui. Ok. Users, ester, downloads. Perfetto. E ora, non mi ricordo più qual era la sintassi. Ok, in questo caso facciamo così. Slash, asterisco, punto, asterisco. Dovrebbe essere sufficiente. Mi sa che devo togliere le virgolette. Sì, infatti. E così dovrebbe essere abbastanza. Ora, già che ci siamo, facciamo anche subito il test per il cestino. Quindi, magari questo, file recycle empty. Vediamo un po'. Ok, svuota il cestino del drive C, quindi del disco locale. Non sapevo che esistessero diversi cestini, onestamente. Quindi non... Vediamo un attimo che cos'è questo file recycle. Ok. Manda un file o una cartella nel cestino se è possibile o se non esiste lo elimina. Ok, in questo caso direi che possiamo ritornare qui su file recycle empty, quindi svuota il cestino. E vediamo se questo è già sufficiente per farci svuotare il cestino. Se funziona già così direi che è stato tipo l'episodio, la puntata di live HK più corta nella faccia della terra. Ora, però, ci possiamo ad ogni modo ritenere soddisfatti, chiaramente, se il risultato è quello sperato. Vediamo un po'. Non ho nulla nel cestino, allora vado a eliminare qualcosa. Elimineremo questo. Ok, così ho il cestino pieno e la cartella download con qualcosa. Doppio clic. Ok. Ci è svuotato il cestino, molto bene. Ora vediamo cosa è successo nella cartella download. La cartella è vuota. E poi andiamo all'interno di download e vedete che anche la cartella è vuota, la cartella download. Pertanto avete visto come siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo molto molto velocemente. Sono davvero sorpreso di me stesso perché di solito commetto qualche errore, nella maggior parte dei casi, di pura distrazione. Perché non è molto difficile fare un video e spiegare quello che sto facendo e nel frattempo imparare, in questo caso, nuovi comandi. Dato che io, molto onestamente, file delete e file recycle empty non l'avevo mai utilizzati nella mia vita. Quindi ogni tanto capita che mi incasini. Dicevo dunque, sono sorpreso del fatto che abbia funzionato così velocemente. Ora vorrei anche provare insieme a voi a fare un'altra cosa. Vediamo un attimo se riesco a controllare. Perché ovviamente quello che potremmo fare, nel caso in cui si voglia andare a eliminare tutto, questo è più come spunto. Non lo facciamo adesso, non vado a scrivere il codice perché, come vi dicevo, questo pc non è mio. Quindi non vorrei fare danni, in questo caso, al desktop della persona che me l'ha prestato, andando a eliminare tutto, ad eccezione del cestino. Perché magari non è come me e non usa archiviare i file in altre cartelle e non mi interessa privacy andare a controllare. Dunque, come spunto per l'appunto, vi stavo dicendo, potreste utilizzare un loop, ok, per andare ad eliminare tutto, ogni singolo file che viene trovato sul desktop, ad eccezione del cestino. Quindi, vediamo un attimo. Ok, in questo caso file name, no, queste qua sono cose che proprio non ci interessano. Ok, qui ci stiamo già avvicinando, potreste valutare di utilizzare un loop, ok, quindi create un loop e dite elimina questo file, elimina questo file e avanti così. Poi, chiaramente, se, che cosa potreste utilizzare? Potreste utilizzare, facciamo, facciamo, dai, facciamo molto velocemente, perché so che poi, loop, ok, apriamo e chiudiamo graffa e qui dentro ci scriviamo file read, dovrebbe essere il comando giusto, vediamo. Oppure, se io scrivo file path, cioè, 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 come si dice, il percorso del file, file select file, vediamo, no, non era questo quello che volevo fare. Direi che read potrebbe essere sufficiente. Read method, file read, file read line, file object, file open, vediamo un po'. Ok, legge una stringa di caratteri, scrive una stringa di caratteri, legge una linea. Vediamo un attimo, devo riuscire ad arrivare, a capire come fare questa cosa, perché lui mi deve cercare, praticamente, uno specifico file e poi andare a prendermelo. Vediamo un attimo. Potremmo valutare anche di dirgli file read e poi utilizzare questo comando. Direi che potrebbe essere sufficiente o no. Vediamo un po'. No, direi proprio di no. Insomma, questa parte ve l'andate ad approfondire voi, direi, dato che questa deve essere solo uno spunto, diciamo, che vi do. Noi prendiamo file read e poi magari così ci salviamo o comunque otteniamo la variabile sostanzialmente contenente il percorso del file. E qui scriviamo se, in questo caso, potremmo chiamarlo path uguale a recycle bin, che se non sbaglio si scrive così in qualche altra maniera. Forse è recycle bin.ink, perché è un collegamento, quindi tra virgolette. Gli dite non eliminare, praticamente, oppure lo eliminate. Anzi, cosa potete fare? Potete fare così, mettete punto esclamativo uguale. Quindi se è diverso da recycle bin.ink, quindi dal cestino, ve lo eliminate. Non so se questa sia, tra l'altro, la sintassi corretta, perché io sono abituato al c++ e da un po' che non uso auto key. Ok, sì, infatti. Ah, no, no, era corretto. Ok. Andate qui a dire file delete e ci mettete path. Ok. Molto semplicemente. Ovviamente qui sta a voi capire come ottenere il percorso del file, o perlomeno il nome, insomma, decidete voi. Ecco, potrebbe essere, vediamo un attimo, file name, rename file, file open, select file, file read, file open, vediamo un attimo. Apre un file, no, direi che non c'entra. Move, leggi linea, get size, recycle, name, match, no. Direi che non ci stanno servendo queste ricerche. Read file contents, no, direi proprio di no. Ok. Ok, vediamo qui, magari ci dice qualcosa. Ok, il nome del file. Windows and Unix formats are supported. No, ok. Vediamo un po'. Non sto riuscendo a capire come, forse, qualcosa è legato a sort. Insomma, questa cosa dovete capirla voi, per arrivare a leggere il contenuto di un file. Per carità potrebbe anche essere questo, eh, il modo per trovare il nome di un file, o perlomeno il suo percorso. Poi, eventualmente, correggetemi se sbaglio, insomma, eventualmente lo cambiate. E poi, perché no, me lo scrivete nei commenti. Dunque, questo era il sesto episodio, la sesta puntata di Live AHK. Abbiamo visto molto velocemente come creare questo script da, perché no, da inserire, da avviare, la sera, quando stiamo per spegnere il computer. Ci elimina, ci svuota il cestino e ci elimina la cartella download. O meglio, l'opposto, così poi ci va anche a svuotare dal cestino l'ex contenuto della cartella stessa, della cartella download. Insomma, ditemi cosa ne pensate. Ovviamente, ci potremmo anche aggiungere un comando, una shortcut, per andare a spegnere il PC in sé. Quindi, magari diamo un doppio clic su quello script, ci va a fare le due cose, ci spegne il PC. Direi che potrebbe starci. E magari, perché no, se avete voglia, date anche un'occhiata a come arrivare a questa parte qui di file read e poi recycle bin con leaf e tutto. E me lo segnerate nei commenti, in maniera tale che anche chi dopo di voi guarda il video, possa capire, eventualmente, se ne ha voglia, come eliminare e come svuotare anche il desktop da tutti i file inutili. Io vi ringrazio per aver seguito anche questo video un po' particolare. Come sempre, i video live HK ho visto che non riscuotono molto successo in termini di like, in termini di commenti, ma le visualizzazioni sono discrete, diciamo. Non sono del tutto soddisfatto, ma sono discrete. Dunque, sicuramente qualche persona, insomma, li guarderà. E spero che ne possa trarre beneficio, ecco. Dunque, se quella persona sei tu, grazie mille. E commenta a questo punto per chiedermi anche qualche altro video, qualche altra puntata di questa serie per sviluppare magari qualche altro script per qualche altra automazione. Dopo aver ripetuto qualche altra per 50.000 volte, direi che possiamo chiudere il video. Dunque, un abbraccio e un appuntamento alla prossima.